Al centro dell'udienza preliminare di questa mattina, sul crollo della casa dello studente all'Aquila, è stata la super perizia del consulente del GUP, l'ingegnere Gabriella Mulas. Ben 1300 pagine illustrate in aula, da cui si è dedotta questa conclusione. La casa dello studente non sarebbe crollata la notte del saprile del 2009 se l'edificio fosse stato sistemato, adeguato, curato negli anni in relazione alle leggi che si sono succedute. La difesa, comunicato il GUP Giuseppe Greco, avrà tempo fino al 17 dicembre, data della prossima udienza, per studiare la perizia. Ma i legali hanno da subito considerato troppo breve questo termine e si apprestano a chiedere un rinvio. La perizia è stata scritta a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati anche con mezzieri e in collaborazione con gli agenti della polizia, dei vigili del fuoco, del corpo forestale. Sott'accusa per omicidio colposo, lesione e disastro colposo, lo ricordiamo, sono 11 imputati. Claudio Botta, Giorgio Gaudiano, Walter Navarra, Carlo Giovani, Berardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone, Massimiliano Andreassi, Pietro Sebastiani, Luca Valente e Luca D'Innocenzo. Un momento particolarmente grammatico dell'udienza si è verificato allora quando, durante l'esposizione del perito, alcuni parenti delle vittime sono scoppiati a piangere e sono usciti dall'aula. Ci ha concesso invece un'intervista a Silvana Cialente, parente di Francesco Esposito, uno dei otto giovani morti sotto le macerie della casa dello studente. Una ferita grandissima per mia sorella e mio cognato che hanno perso il loro unico figlio qui alla casa dello studente, Francesco, che è morto insieme con la fidanzata, appunto perché avevano sentito le ultime scosse. I ragazzi che erano rimasti lì avevano un po' paura, però avevamo avuto delle rassicurazioni, c'erano stati già dei segnali anche detti dagli stessi studenti, si sentivano, si vedevano delle crepe, si vedevano delle cose strane avvertite anche dagli stessi studenti a chi di competenza. Però non hanno fatto niente perché si sapeva che questi palazzi, alcuni palazzi dell'Aquila, già da uno studio che erano stati fatti, c'erano dei palazzi proprio a rischio e fra questi anche la casa dello studente. Sarebbe bastata una telefonata o che il direttore, il responsabile, poteva andare lì e ordinare al custode, quel ragazzo che fortunatamente è stato estratto poi la mattina dalle macerie, di andare lì e far uscire tutti i ragazzi fuori, che a quest'ora non staremo qui a piangere veramente quei ragazzi e assistere alla disperazione di questi genitori.